Buongiorno, buongiorno ragazze e ragazzi. Io mi presento, sono Giusy e sono nuova su YouTube. Questo vuole essere un video di presentazione. Ovviamente non starò qui a raccontarvi tutto di me, perché poi lo scoprirete nei prossimi video. Mi faceva piacere introdurvi un piccolo pezzettino di me. Mi chiamo Giusy, il mio nome completo è Giuseppina, però fate come se non me l'avessi detto. Mi chiamo Giusy, chiamatemi Giusy. Arriviamo al dunque. Cosa vedrete in questi video? Principalmente vi parlerò della mia quotidianità, farò blog sulle mie giornate. Un piccolo spoiler che vi posso fare, chiamiamolo così. Io amo tutto ciò che parla dell'organizzazione. In casa mia sono piena di organizer, accessori per organizzare. Quindi sì, vedrete anche quello. Poi che dirvi, perché? Perché ho scelto di entrare in questo mondo? Partiamo dal presupposto che è un anno a questa parte che mi frullava in testa l'idea di perché no? Perché non provarci? Perché non cercare di creare, una community? Possiamo chiamarla così? Sì, è da un anno a questa parte che mi frullava in testa la voglia di creare un canale su YouTube. Possiamo chiamarlo Coraggio? Palla al balzo? Quest'anno mi sento vogliosa di intraprendere questo percorso. Ci metterò tutta me stessa, metterò la mia faccia e niente, non vedo l'ora di iniziare. Sono carica, sono positiva e ovviamente con i vostri commenti e con il vostro aiuto riusciremo, spero, a creare un percorso bello, un percorso dove ci divertiremo, chiacchiereremo, parleremo di tutto. Il mio obiettivo finale, se così possiamo chiamarlo, ve l'ho già detto, ve l'ho già detto, è creare una cosa positiva, una cosa bella, una cosa senza invidia. Dico invidia perché al mondo d'oggi, lo sappiamo benissimo, lo sappiamo tutti, soprattutto tra noi donne, mi ci metto anche io di mezzo, purtroppo, dico purtroppo, c'è molta invidia. Adesso non sto qui a dilungarmi, però vorrei creare, ecco, l'obiettivo finale è creare una community, se non una community, un rapporto tra donne, soprattutto, possiamo darci consigli, consigli positivi, consigli senza invidia, senza cattiveria e quindi l'obiettivo finale, ecco, è creare una cosa positiva, con i miei video e con la mia quotidianità. Ok? E che dirvi? Sono super carica, emozionata allo stesso tempo e non vedo l'ora di iniziare. Ciao, alla prossima!